No ragazzi in pratica li sto giocando questo qua che Pietro mi fa guarda che si e lui di ti caria abbiamo fatto tre partite abbiamo preso due tre primo secondo due tre sono stato il più forte io e anche lui infatti mi ha messo like e quindi mi sono messo a ridere terzo stiamo camperando quindi mi sto rompendo i coglioni è morto di nuovo sto coglione di merda e quinto Pietro mi fa sì ma guarda che manca solo il video se metti il video non perdi va bene mettiamo sto video guarda non mi è servito nulla guarda che cazzo faccio vabbè aspetta perché eri già in partita eri già partita abbiamo preso il pisello ha messo poi l'abbiamo preso di nuovo adesso vediamo chi metto speriamo bene ma come fai a campionare con bibi ma se spari magari coglioni dai ho fatto il triplo del credito grazie grazie a tutti io ragazzi alti stanno chiamando vitto oggi è che cosa c'è sì 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 posso venire no sono sono già lì sono già lì a lavorare no ma è scusami si si ma che grande è in marte va bene no ok c'è mi stia se perché non ci si può no ok brava ti sembra oh guarda che neanche ho debiti quest'anno quindi di svegliare non li prendo città no business 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 esatto quindi non prendere i debiti dai dai ciao chiedo giri quindi sai tu eri stati io sono già lì a lavorare va bene va bene ciao 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 Jack allora qua ha fatto una giocata dark io non ho visto nulla qua dark ha fatto una grandissima giocata davvero proprio finalmente se hai visto una cosa buona grande da lui una è non esagerato tutte ragazzi hashtag vitto che lavora hashtag dark è più scarso di vitto c'è proprio a mani base ma se muore anche lui e muore anche lui no no sta facendo una cosa buona mi trovo 793 lui mi ha droppato a 780 tico c'è un 900 no allora non spariamo di baggiatta no 793 è appena perso anche adesso non è vero mai dire mai oddio nooo eh lo so eh lo so dai dai va bene sicuro faccio dei casini perchè non ci sei tu sicuro no ma tranquillo tranquillissimo sono già pronta a prendermi dei novi stasera ti chiedi all'interno che a sosta si si vengo se vuoi posso venire un pochino prima io vengo alle 7 che l'amato qui c'è alle 7 fa il sere vengo prima non cosa no ehi vieni un po' prima non ti cosa c'è da fare ciao ci vediamo dopo ciao ciao eeeh eheh sono lì che stasendo darmi al proprio cino da sola ti vieni di conto ma anch'io ho fatto dai c'è riccardo ha droppato pippone pippone assoluto capite che non ho ancora droppato si dicono tutti così dicono manca ancora più oh c'è la stessa skinny in sto qua manca ancora un gol venga che erano c'è un bambino guarda guarda qua eeeh round vinto purtimu round ma che giura che era mai suonare e' primo round vinto eeh sarà k.o pirlone pirlone ma allora com'è che me lo so io non te e che mi sono arrivato a sapere cosa fa l'overdrive lo devo usare con la super come vuoi con le sue idee e metti altri sei mi piace mi piace mi sono chiuso a fare con la super guarda dove puoi fare ecco ma dove stanno volendo mi sono chiuso a fare un po' ragazzi hashtag richiede troppo ma mi sa che non sto facendo un video mi sa che non sto facendo un video che domanda è perchè che ne so sta registrando sta registrando ragazzini inizio a parlare ma dove vuoi? ma ricordo sei una merda che bello ma mio fratello sapete che è una piccola lui sta cercando di fare qualcosa di bello con Dai ma non sa che è scarsissimo lui dice ma si dai che adesso mi porta 900 ma non sa che è una merda 800 ah 800 magari 900 si vabbè dai non sa neanche che sparare questo qua è quello per farlo non c'è no ma chi sono questi qua si è tutta colpa dei compagni hai troppato? mamma ma sto giocando quante volte non trovo gente normale si adesso è colpa dei bot vabbè hai vinto vinto vabbè ho 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 vinto invitatemi vabbè ho vinto vabbè ho vinto no vabbè ho vinto no e non si recupera 800 no non è vero vitto mimi si ma io che gioco 50k e ho dato con un 8k si trova di orribli ma cosa ringhe di fuoco? ma capo no fermo capo che capo vitto mimi vitto togli tic vitto mimi no vabbè stiamo bruciando in k o perchè in in da in cosa? vitto mimi ehi siamo già in 3 no ma si gioca che non c'ho tempo e a me si gioca vitto togli tic vitto togli tic perchè hai silenziato i messaggi coglione vitto mimi tic vitto mimi tic a far deficiente non togli tic lasciala dare mike e speglilo vai speglilo ma lascia dare no figa me lo toccasso ma no no adesso ti vuoi ma chi ti vuoi mi fate gara non ti muovi cambi metti metti brock perlone cosa metti brock e c'è da lui cazzo lo sapevo che coglione dai un ragazzo c'è tutto troppo forte guardami non si muove troppo forte troppo forte parla con lui c'ha troppo forte eh prima di vincere una le troppo forte oh allora però vabbè dettagli sono piccoli dettagli tanto da prima 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 assoluto lo vinta e già e già e già vabbè vabbè la prima e già lì ci va una nota di no dove vincia va quando la roma ha segnato il 5 a 2 ecco e lì lo vinta eh eh vabbè ragazzi ho capito che la roma va tutta la prima ma è finita ebbè ovvio vedete il video precedente eh scusate anche questa non dovete vedere il video precedente a guarda dai si positivo sono esattamente al doppio di noi scherzo male che vada il 25 le fa vuoi con te le palle lu di merda ma dai ma che culo dai dai oh lei dai stiamo un pochino lì per favore oh dai su che sono morti tutti dai lui comunque ha pieno dai lui lui ha finito ma in generale non viene ma ma la pellicola no noi abbiamo anche le colpite non ho fatto almeno sei chi ragazzi comunque se devi trovare qualcuno è è mio fratello che è scarsissimo no non ho visto un altro bravo vuoi gli applausi non ti so e se mi aspetti magari da parte amata e aspetta allora aspetta aspetta mi avete rotto le palle gli ho perso cioè io ho perso però guarda le statistiche su come mi dici come come è possibile 35.000 danni il doppio di sto coglione e 15.000 in più visto qua questo qua quattro morti quattro morti quattro morti a testa mi spiace che hai giocato male ho fatto più danni di tutti sti qua a parte sti qua poverina perchè è lui è lui ho fatto la stessa partita di lui ho fatto la misera forse abbiamo sto droppo si ce l'abbiamo si ce l'abbiamo ragazzi sto troppo leggendario per i video nooo 100 critico ops ops quando c'è la storia la storia dai dai finiamola dai no no accetta 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 è il 52k siiii ciao dark devo andare ciao nessuno sa che sei tu ciao dark mi sono droppato con te chichi grazie per il drop no dai come veniamo solamente ragazzi sentite la musica il mio cugino che è quello stupido è guarda tiktok fatti c'è il mio cugino ma c'è il motore c'è il tuo io sarai prendi la roba mondiale da che fumo no no bro prendi la roba mondiale non sai che no vedi storia una trezza e neanche niente che ce ne facciamo sulla biglia che ce ne facciamo vedevo solo nei modi capirai che è in utilità comunque primo ricordo perchè stavo parlando con uno nel cil poveri tic io non so che tu sei l'artefice di questo drop aiutami tu aiutami a salire come sei siiii tra un po' ora faccio la tesina nooo non puoi farlo dopo non puoi farlo la farlo la per cosa ti fai l'ora o la che cazzo dai cos'è se roba non puoi farlo no non puoi farlo farla dopo non puoi farlo non puoi farlo